Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A11, 3 km di coda per veicoli in fiamme con traffico bloccato tra Montecatini Terme e Pistoia in direzione Firenze. Rallentamenti per lo stesso incidente e anche in carreggiata opposta sullo stesso tratto. In A1 permane coda per traffico verso nord tra Calenzano e Vio 1 variante. In Empoli ed Empoli Est sempre verso il capoluogo con i attratti tra Scandicci e Firenze Scandicci. Prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze per sostituzione e adeguamento dei guardrail sui diversi tratti del raccordo Marco Polo, restringimenti di carreggiata tra lo svincolo di Viale Europa e lo svincolo autostradale Firenze Sud in direzione autostrada. Il provvedimento è in vigore fino al 10 agosto. Moverestino Toscana Info è un servizio in collaborazione con la regione Toscana, città meropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio. Grazie a tutti.